Inizio questo video con delle scuse preventive in quanto il servizio che andremo a vedere oggi, di cui andremo a discutere, andrò a discutere più che altro oggi, è uscito qualche giorno fa, è uscito se non l'indomani di Inter-Verona, il giorno dopo Salernitana-Juventus, quindi bene o male è comunque riconducibile all'inizio di questa settimana o alla fine della settimana scorsa. Comunque è uscito da qualche giorno sostanzialmente, solo che onestamente non ero a conoscenza di questo servizio di Mediaset, che poi è stato mandato su Pressing, su Sport Mediaset, insomma comunque è circolato su diversi servizi legati allo sport di Mediaset e quindi insomma fondamentalmente non ero a conoscenza. Non ero a conoscenza ed è abbastanza grave la cosa, soprattutto se poi magari sempre nelle reti Mediaset si vedono giornalisti di fede interista parlare di clima non particolarmente bello nei confronti dell'Intere, che il calcio in Italia non si deve raccontare in un certo modo, salvo poi magari andare a vedere chi ha raccontato il calcio per decenni sempre a Mediaset e che cosa fa ora su Twitter per ricevere in cambio degli abbonamenti o per cercare quella certe ospitate. Il tutto prende anche una piega abbastanza incoerente ma d'altronde questo è e non ci possiamo poi stupire nemmeno più di tanto. Addentrandoci invece un pochino di più nel merito del servizio che è stato lanciato poi nelle reti Mediaset, il messaggio di fondo può essere anche condivisibile. Dico messaggio di fondo perché l'idea del servizio di per sé è nata parlando della credibilità che man mano sta sempre più perdendo il VAR. Uno strumento estremamente utile, estremamente anche rivoluzionario, perché no, ma nel momento in cui questo strumento viene utilizzato fondamentalmente come il porco senza troppi giri di parole con delle scelte che sembrano letteralmente impensabili. Dopo aver visto per letteralmente una volta le immagini, ma nonostante tutto viene presa la scelta diametralmente opposta a quella che per logica dovrebbe venire presa, ci può stare mettere un pochino sotto la lente di ingrandimento, se no magari tanto il VAR come strumento di per sé l'utilizzo che viene fatto del VAR e tutto questo è all'interno appunto di questo servizio Mediaset da parte di Fabio Manfreda che vi auguro avrà anche modo un pochino, non dico di ritrattare totalmente il servizio perché comunque di per sé può avere logica e per certi aspetti può essere anche pienamente condivisibile, ma nel momento in cui magari all'interno del servizio stesso riprendi degli episodi che possono anche tranquillamente non starci dentro all'interno di questo servizio perché sono stati discussi in lungo e in largo e abbiamo avuto anche proprio la possibilità di ascoltare nel merito il VAR mentre prendeva la decisione riguardo questo episodio nello specifico direi anche no perché tra i tanti errori macroscopici del VAR secondo il servizio di Fabio Manfreda c'è pure il primo gol di Juventus Lazio 3 a 1 partita di metà settembre quindi neanche da dire una partita di tre giorni fa che quindi ancora non sia modo di sapere, di sentire che cosa sia stato detto al VAR, quali valutazioni siano state fatte per decretare il gol a tutti gli effetti regolare e per chi insomma ancora non avesse capito cosa abbastanza difficile all'interno di questo servizio di Mediaset si ritiene un errore macroscopico del VAR l'assegnazione del gol di Dusamlaovic in Juventus Lazio del 16 settembre perché il pallone su cui è arrivato McKennie era senza dubbio uscito in Juventus Lazio la palla fuori di McKennie che porterà il gol di Vlaovic non si parla più solo di mancanza di uniformità ma di errori tecnici gravi, chiari ed evidenti che fotografano un livello qualitativo bassissimo dei nostri arbitri quando la realtà ad onor del vero è un pochettino differente perché anche andando a risentire quelli che sono stati i dialoghi tra gli arbitri di campo e quelli del VAR per decretare se il pallone fosse uscito o meno intanto vabbè sentiamo sin da subito il guardaline che dice buona buona la persona che era letteralmente a 50 centimetri un metro da McKennie e il pallone e che quindi in presa diretta dalla linea ha visto che il pallone quantomeno dal suo punto di vista non fosse uscito e poi anche con Open VAR in seguito abbiamo avuto la possibilità di vedere anche come il pallone sia stato giudicato in campo o che quantomeno non ci fosse la prova al 100% di valutarlo fuori con tanto di linee un pochino come quando si tracciava il fuorigioco prima del fuorigioco semiautomatico e che quindi anche tracciando quelle linee il pallone non risultava a tutti gli effetti uscito anche perché con prospettive quant'altro il pallone sembrava anche se in piccola parte dentro e quindi insomma parlare di quell'episodio quando si tirano in ballo gli errori macroscopici del VAR tutto sommato anche meno con tutto il bene del mondo anche meno soprattutto se poi un'altra cosa curiosa che non ha più di tanto a che fare con Juventus Lazio ovviamente tra i tanti errori anche abbastanza importanti si parla di VAR inserendo quindi il rigore non dato in Juventus Bologna su un doje per l'amor di Dio pienamente legittimo pienamente comprensibile tanto che ha portato alla sospensione degli arbitri che hanno fatto senza ombra di dubbio un errore macroscopico e questo va detto bellissimo però come all'interno di questo servizio si parla di Cesari che sarebbe poi andato a commentare gli episodi di Inter Verona però lo stesso Cesari sempre riguardo Juventus Bologna dice che sì senza ombra di dubbio c'era un rigore per il Bologna ma lo stesso Cesari disse che inizio partita c'era anche un rigore abbastanza evidente non fischiato alla Juventus con Moro se non sbaglio che frana letteralmente su chiesa abbattendolo e come se poi tutto questo non bastasse tocca pure la palla col braccio proprio per non farci mancare nulla quindi il giudizio di Cesari vale un pochettino a targhe alterne così per dire è giusto per una semplicissima domanda che rivolgo a Fabio Manfreda ecco tutto qui né più né meno inoltre dato che si è iniziato a parlare di una serie di episodi molto strano che manchino gli episodi di Genoa Juventus dove sempre con il VAR non è stato dato un calcio di rigore anche abbastanza evidente alla Juventus e non è stato dato un rosso grosso come una casa a Malinowski così come all'interno dello stesso servizio non si fa neanche il minimo cenno al mancato rosso di Berardi in Sassuolo Juventus ma ovviamente io non è che ci voglio vedere dietro particolari dietrologie è normale che magari abbiano deciso di andare a prendere quelli che sono stati gli errori più macroscopici ecco però nel momento in cui vai a prendere gli errori più macroscopici per forza di cose non mi puoi andare a prendere Juventus Lazio nel momento in cui il guardaline che era lì vede che il pallone non è completamente uscito perché altrimenti immagino non si sarebbe fatto problemi e ci mancherebbe altro ad alzare la bandierina per dare quindi rimessa laterale per la Lazio se poi andiamo a vedere quello che è stato il lavoro del VAR che non gli ha dato la possibilità di decretare con certezza al 100% che il pallone fosse uscito ecco se all'interno del servizio si parla di errore macroscopico del VAR perché il pallone di McKennie era uscito non è che questo sia fare informazione quantomeno dal mio milissimo punto di vista ci mancherebbe altro posso anche completamente sbagliare però non mi sembra proprio fare informazione soprattutto poi se si parla di un servizio di qualche giorno fa mentre invece la partita contro la Lazio è stata a metà settembre dove metà ottobre, metà novembre, metà dicembre, metà gennaio cioè praticamente è una partita di quattro mesi fa dove quell'episodio è stato analizzato, valutato e giudicato in lungo e in largo poi non necessariamente nel momento in cui a città laggiù ti dicono che il pallone è uscito il pallone poi necessariamente lo è stato e in un servizio di Mediaset devi andare a dire che il pallone è uscito al 100% quando non è minimamente così perché questo non è fare informazione e vedere e sentire il tutto dopo che per giorni si è parlato di posti avvelenati di accerchiamento nei confronti dell'Inter per un errore macroscopico e riconosciuto anche dai vertici arbitrali come quello di Inter Verona il tutto prende una piega anche un pochettino differente diciamocelo chiaramente perché io posso essere completamente d'accordo e lo ribadisco su quello che vuole essere l'obiettivo iniziale del servizio quello di porre la lente di ingrandimento su uno strumento che in particolar modo in questa stagione non è che venga utilizzato dagli arbitri proprio nel migliore dei modi anzi però se andiamo a ricondurre il tutto anche a Juventus Lazio eh no alt, alt soprattutto se mi dici che è un errore macroscopico perché il pallone toccato da McKennie è uscito al 100% quando è evidente che non sia così questa non è fare informazione o sarebbe anche comunque giusto nel momento in cui decidi di fare informazione per completezza citare anche un pochino tutti gli episodi ma qui immagino che se devi fare un servizio di tre minuti e mezzo o quattro minuti non è che puoi magari andare a mettere tutti gli episodi controversi per ogni singola squadra di Serie A questo lo capisco e ci mancherebbe altro però neanche andare a mettere delle scelte che si sono rivelate a tutti gli effetti corrette ecco, quanto meno così perché altrimenti perde anche quasi proprio di credibilità il servizio stesso errori macroscopici del VAR vai a prendere una scelta presa correttamente grazie anche proprio al VAR che ha tracciato le linee e ha visto che il pallone non fosse uscito mi perde un pochino anche di credibilità il servizio stesso per quanto potenzialmente possa essere anche estremamente condivisibile perché no, così come si dà estrema credibilità a quello che è il giudizio dell'arbitro di Mediaset e ci mancherebbe altro che non sia così perché altrimenti non ha senso tenere quell'arbitro poi si parla di Juventus-Bologna e si cita solo ed esclusivamente il rigore non dato al Bologna e quello non dato a Chiesa citato proprio dallo stesso identico arbitro ovviamente perché mai andarlo a menzionare capisco, posso capire che alle volte per mancanza di tempo si omettano per sbaglio ovviamente determinate cose lo capisco pienamente ma poi guai, i posti sono particolarmente avvelenati e non va minimamente bene questo genere di clima qui però probabilmente anche certi servizi si possono ritenere quantomeno rivedibili ecco, quantomeno rivedibili mi limito semplicemente a questa rapidissima analisi detto questo, ragazzuoli, nulla bene o male, vuoi o non vuoi, è la solita storia stupisce? ad onor del vero direi di no ma nel momento in cui ci hai fatto anche abbondantemente il callo non rimane altro che denunciare tra virgolette la cosa pubblicamente e tutto sommato farsi anche una grassa risata sopra via, né più né meno detto questo, ragazzuoli, nulla voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve!